Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema dell'audio sulla tua scheda madre quindi in questo caso va cercata la tua scheda madre e bisogna installare dei driver, quindi o aggiornare o installare dei nuovi driver per il tuo sistema quindi io ovviamente ho la B450 Gaming Plus Max, se non sai che tipo di scheda madre hai nel tuo PC vai su SizeStem Information prodotto scheda di base B450 Gaming Plus Max, questa è la mia scheda madre vado a cercare direttamente su Chrome B450 Gaming Plus Max Driver mi apparirà così la pagina dei driver e qua sotto c'è Open Board Audio Drivers Real Tech HD Universal, se in questo caso hai un Asus ROG Strix vai direttamente sul sito della tua scheda madre, vai su Assistenza e qui troverai tutti i driver cerchi così il tuo sistema operativo, io ho un Windows 11 64 bit scendi fino giù fino a trovare Audio, Real Tech Audio Driver ed eccolo qua, lo scarichi, estrai il pacchetto, se te lo scarica come pacchetto RAR quindi devi estrarlo con il programma WinRAR quindi una volta scaricato, io adesso vado a scaricare il driver per la mia scheda madre ovviamente me lo scarica come file zip che bisogna poi estrarre con WinRAR eccolo qua ecco il Real Tech ci ricco dentro e ovviamente entri nella sua cartella con la cartella là sopra scendiamo fino a giù fino a trovare il setup e non ci resta che aspettare che si installi così il driver e non ci resta che si installi così il driver una volta installato ti chiederà di riavviare il tuo sistema, io ovviamente non lo faccio perché sto registrando quindi farò il riavvio più tardi quindi non riavvia adesso non lo riavvio, metto NO quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aggiornare e installare nuovi driver per l'audio per risolvere il problema sulla tua scheda madre iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao